Non perdetevi i festeggiamenti di Borgoloreto a Cirie, da venerdì 7 a martedì 11 settembre. Ricco il programma della Carmes, tra i vari appuntamenti spicca Funghi in piazza, 36esima mostra concorso micologico Borgoloreto, accompagnata dalla 33esima mostra a mercato di funghi e non solo, prodotti tipici dall'enogastronomia all'artigianato piemontese. E ancora, Conoscere i Funghi, 29esima esposizione didattica Funghi dell'Associazione Micologica Piemontese. Vi aspettiamo da venerdì 7 a martedì 11 settembre a Cirie per i festeggiamenti di Borgoloreto.